L'SNV sta per Servizio Nazionale di Valutazione. L'obiettivo dell'SNV è quello di garantire e di dare piena attuazione all'autonomia scolastica, valutando l'efficacia e l'efficienza del sistema scolastico italiano su tre dimensioni. La valutazione delle istituzioni scolastiche, la valutazione della dirigenza scolastica e infine la valutazione dei docenti e del merito professionale. L'SNV è composto dall'Invalsi, che è l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione, Indire, che è l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa e poi c'è un contingente di ispettori, quindi il contingente ispettivo.